Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo alla connessione internet wifi e cavo ethernet sia su windows 10 che windows 11 quindi in questo caso andiamo un attimo sulle impostazioni di opzioni internet tu vai a scrivere direttamente opzioni internet ci clicchiamo sopra andiamo direttamente su connessioni connessioni impostazioni lan rileva automaticamente impostazioni e facciamo ok una volta fatto fai applica e fai ok se non dovesse funzionare con questo metodo possiamo sempre rivolgerci direttamente alle impostazioni risoluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi rete e internet facendo così una scansione aiutandoci così a capire qual è l'errore e così possiamo andare a risolvere questo errore rete e internet facciamo esegui sei connesso a internet non sono stati rilevati problemi con la rete è possibile riavviare il motem il router o il commutatore riavviare il computer oppure controllo la connessione del cavo ethernet se è come dire se il cavo ethernet è connesso però non dà segni proprio di dare la connessione internet quindi non dà nessun accesso a internet possiamo sempre usare la scheda di rete wifi nel nostro computer e scaricare così un driver per la nostra scheda madre quindi se andiamo un attimo su system information questa è la nostra scheda madre questa è la mia scheda madre b450 gaming plus max prodotto scheda di base vado su internet cerco così la mia scheda madre vado su supporto driver e download driver lan driver ed eccola qua realtech pc ethernet driver se tu stai usando la connessione wifi scarica così questo driver e comincia a usare il cavo ethernet che è meglio della connessione wifi ok quindi vai download scarichi così il driver tasto destro sopra dobbiamo estrarre il file con winrar questa è la cartella e all'interno troverai il setup per installare il driver per il cavo ethernet quando collegai per la prima volta il cavo ethernet al computer non dava segni di vita non dava nessun accesso a internet perché non c'era nessun driver che rispondeva a questo cavo quindi ho dovuto scaricarlo installarlo riavviare il computer e all'improvviso il cavo ethernet funzionava e non ho avuto più problemi di connessione a internet quindi una volta fatto chiudiamo un attimo qua in descrizione ho lasciato dei vari comandi da inserire su prompt dei comandi per ripristinare la connessione internet prima di fare questo andiamo un attimo su la nostra connessione internet tasto destro sopra impostazioni rete internet andiamo su impostazione di rete avanzate su rete internet impostazione di rete avanzate ripristino della rete puoi sempre ripristinare la tua connessione internet wifi e avviare il computer inserire di nuovo la password dalla tua connessione wifi e vedere se funziona per il cavo ethernet invece per il cavo ethernet invece tasto destro sopra impostazione rete internet impostazione di rete avanzate vado a prendere così il mio cavo ethernet ed eccolo qua visualizza proprietà altre opzioni scheda modifica protocollo internet versione 4 tcp ipv4 ottieni indirizzo serve dns automaticamente facciamo ok e facciamo ok qua una volta fatto andiamo direttamente sul nostro prompt dei comandi vai a scrivere cmd prompt dei comandi esegui come amministratore ora guarda prima tutta questa parte prima di fare il procedimento mi raccomando il procedimento va fatto tutto in ordine in descrizione ho lasciato questi comandi qua da net swingsock reset fino a txt fino ad arrivare a questa parte qua si disconnetterà così la rete wifi quindi poi non potrai più guardare il video quindi ti consiglio di guardare tutta questa scena oppure di continuare da solo mettendo in ordine tutti questi comandi ok quindi facciamo ctrl c per copiare il comando lo metto lo metto qua faccio invio rimpostazione catalogo winsock completata, ora è necessario riavviare il computer. Riavvia il computer, una volta che hai riavviato il computer esegui il secondo comando, fai copia, voliamo qua, terzo comando, facciamo copia, riavviare il computer per completare l'azione, ipconfig, flush DNS, cache di risolve DNS svuotata, ipconfig relays, invio, ipconfig renew, ora la rete si è disconnessa come puoi vedere, dopo questo comando si è disconnessa così la rete, ctrl v, invio, l'ultimo comando è questo qua. basta, una volta fatto, è tornata la nostra rete, accesso a internet, chiudiamo il comando e riavviate il computer, e riavvia il computer. tasto destro su start, gestione dispositivi, andiamo sulla nostra rete, tip link wireless per la mia connessione wifi, a Realtek P6 per il mio cavo ethernet, tasto destro sopra, aggiò una driver, perché dovremo nel computer, ci dà un elenco di drive disponibili, ed eccoli qua. tip link technologies, questo qua, faccio avanti e installo il mio driver, per il cavo ethernet già l'avevo fatto, attraverso la mia scheda madre che ho trovato su internet. comunque per altri problemi ancora riguardo alla connessione internet, che non funziona e non risponde, non dà nessun accesso a internet, commenta sotto al video, iscriviti, lascia like, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.